Pilota Cooper, Anderson è morto, ma possiamo completare la sua missione se ristabiliamo il contatto con la FONTA. Quel trasmettitore interstellare ci farebbe comodo. E se non arriviamo lì in tempo? 40 milioni di anime sul pianeta Harmony periranno. Dobbiamo trasmettere l'informazione al comandante Sarah Briggs dell'SRS. Vedo il trasmettitore più avanti. Le scansioni rilevano pochissima energia, forse va riparato. Attenzione, sto rilevando diversi contatti. Postili confermati, gli stalker sembrano programmati per attaccare la sala controllo. Attenzione, tracce di sostanze chimiche pericolose nella nebbia. Cos'è questa nebbia? Scansione in corso. La nebbia è un sottoprodotto tossico della rete energetica del trasmettitore. Ti consiglio di entrare quando agisci in ambienti pericolosi con essa fluoruro di tungsteno superiore a una ppm. Entra ed andremo. Modalità pilota attivata. Pilota, rilevo forze della milizia nella sala controllo del trasmettitore. Sembrano in difficoltà. Ti inoltre la comunicazione. Ehi, chi sei? Pilota, mi ricevi? Abbiamo bisogno di aiuto qua giù! Qui Capitano Konda, terza granatieri della milizia. Siamo invati dagli stalker. Chiediamo aiuto! Ti consiglio di aiutarli a eliminare gli stalker e puoi metterti direttamente in contatto con i cuciglieri della milizia. Opzione tattica. Mettili sotto. Il mio telaio di barattolo dell'ate può eliminare i medici più piccoli. Minaccia neutralizzata. Bel lavoro. Questa vittoria ha alzato il nostro rendimento in combattimento. BT-7274 alle forze della milizia. Tutte le minacce sono state eliminate. Ci avete salvato il culo. Vegli stalker continuavano ad arrivare. Non saremmo durati ancora per molto. Stiamo aprendo le porte blindate. Entrate! Il pilota e i Titan sono sul montacarichi. McCord, tirali su! Subito, signore! Capitano, stato del trasmettitore? L'energia si è arrestata. Abbiamo perso il controllo del trasmettitore. Ci serve qualcosa di simile per avviare il sistema, ma questo qui è distrutto. Designazione. Arc. Funzione. Genera energia fino a 5 megajoule. Sì, sì, sappiamo che cos'è. Puoi ripararlo? Purtroppo no. I sensori indicano che ce n'è un altro nella sottostazione, ma è quasi impossibile raggiungerlo. Questo posto non fa per gli umani. Capito. Pilota Cooper, sii prudente mentre esplori la sottostazione di questa struttura. Devi recuperare l'arc. Buona fortuna, signore. Spero torni sano e salvo. Ne abbiamo persi troppi da giorni. In questo posto non dovrebbero... Buona fortuna. Qui ci sono soltanto solo uno. Grazie. 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 Grazie.